Il Partito Democratico di Francofonte punta l'attenzione sulle problematiche locali nel corso del vertice, coordinato dal segretario cittadino Pino Casella, che ha avuto luogo nell'exichiesa San Cristoforo, alla presenza dei deputati nazionali Silvia Modio e Pippo Zappulla. Il segretario Pino Casella ha messo in evidenza il ruolo e le iniziative che il PD si accinge a prendere per il rilancio del Paese. Tocca a noi, Partito Democratico, dirigenti di questo partito, i dirigenti, i consiglieri comunali, dirigenti del nostro comune, del nostro territorio, cambiare le carte e le regole del giorno. Nel corso del dibattito è stata messa in evidenza anche la crisi che sta contribuendo a collassare il comparto agrumicolo e quindi l'economia locale. Quest'anno veramente a Francofonte su, non so, mettiamo mille vagone, se si sono raccolte 200 vagone sono morti, gli altri sono sulle piante che stanno cadendo. C'è un disastro veramente per la gente, c'è il pericolo della botola totale dell'angicolto. I deputati nazionali Amodio e Zappulla, a conclusione dei lavori, hanno assicurato il massimo impegno e la volontà di approfondire queste problematiche anche nelle sedi opportune del Parlamento nazionale.